Questo è il panorama del lago di Endine, diciamo lago di Endine, ci sono cose sproporzionate, ma cos'è lei, cos'è lei? Ah no, è il mio pannolone, oggi catture strepitose, robe grosse, un po' di scardole, qualche scardoletta, va bene? Dai dai, un paio d'ore di pesca, 5 kg di scardole, che bel campato, ciao a tutti, Ciao a tutti, guardate qui Sandro che vanno, ciao a tutti, stagate, la madonna che se ne vanno, scavalcano, se ne vanno tutte, guarda che se ne vanno, via 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 che bel campato, ciao Italia, Italia 1, mi fai pena comunque